ahahah ahahah l'attività atto simpatico se ha pagato un'attività c moriremo sicuramente moriremo di l'anno di accaduto tutti quanti qui no one simo poi hai messo il fondino si con calma faiasca torna al centro c ahahah 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 ma adesso vorrei camminare mentre lo si io siamo già da un quarto d'ora che ci stiamo sparando ahahah massimo si può cazzo tutto che cosa fa che cavolo mi hai fatto? siamo mai lanciato via simo ma tu sei in squadra da sola siamo io e greco da soli ma vado a cazzo me lo vedi ahahah eh ho visto adesso noi siamo già a squadra 1 eh tu simo a squadra 6 ehmue 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 si può essere lanciato con la palletta e finito in mare ehmue no che poco dentro 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 è merda mi sono fatto una camminata oggi quanti decametri hai percorso? ma 4-5 mili kilowatt ah no decametri dico o ettometri vedi un po' tu dimmi quello che puoi passi dei passi cosa dico no decimetri dei centimetri dei centimetri decimetri li scanna tutti la cramina mi prendi prima volta 1 2 3 4 3 4 ma io porto un camion porto ehmue ma il più 90 lì si può tenere alcuni i allora allora sono il modo per 6 prof su le Io stavo bene su un mano, non lo avevo mai! Il giro sottoterra! Ecco, rinaldo! Gli dico un po' poco per dire... A casa! Due mille azioni su due colpi! Mi sape un'olta! Grazie a tutti! Stoom! Stoom! Camarone! Ma cosa fai? La cima! Camarone down! Mi fa bene la cosa! Ma l'impostato! Mardo! Va in bambini! Ahahahah! Come lo devino! Simo ma cos'è? C'è lancato giù solo noi due! Tua sorezza! Che dà te? Ah, uno gli ho fatto due venti, l'altro si è messo dentro la piramide. Ecco! Ho vissuto la fase di costruzione della me... La modifico, la Q12 metri dentro, la riapro. Ahahahah! Ahahahah! Ma davvero... Dove cantine fette, ecco? Oh mio mio! Uuuhhh! Ahahahah! Tre spari! Ahahahah! Camar! Ah! Ahahahah! A parole tue, Simo eh! Ahahahah! Si era ribuggato, vi speravo ancora. Ho provato a mandarti due volte un video, una volta una foto con la mia vita. Ahahahah! 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 Ma è un bot. Eh dai ma perché mi è combattuto l'anno di sto furgone? Stavo a mirare il compagno o mi è combattuto l'anno di un furgone? Puttana leva! Dove andar via, veloci pure! Prima aereo? Prima aereo! Ci può andare in tre? Sì, però lo porto io perché... So, so più bello. Dai, che siamo? Eh, ero sceso perché non ci facciamo andare solo con me. Ma sta carriola funziona? A me si è aperto il paracadute senza nessun motivo! Meglio, zitto! Ma pure a me mi ha jackinato quello che è un animale. OIONE! Che cacchio fai se muoè? Che stacca fa? Eh, guarda qua! Mi ha regalato un amico mio per il Natale! Il problema è me l'ha mandato un amico! No, la granata! No, la granata! Come quella... Tento le... Ah, no, è la tua ombra! Mamma mia, che sul colpo! Tento le... Poltorneso fatti, non mo' ci era guadagnare. Io ti ho il divano, potrò ne so fatti. Artigiano? Sì, l'offerta ti è terminata domenica perché sai, sono sei anni che termina domenica. Sì, 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 sì. Termina sempre. No, vabbè, non c'era. Volta ne so fa, gli artigiani da quali da adesso ho cambiato. BOOM! Eh, ciotto, 220! No! Io ho finito i medici, per favore. No! Io ho finito i medici, per favore. No, me lo scuso dalla macchina, ma ma ci arrivo da sola. Che coglione. No! Scusate, scusate. Grego, hai scudini? No, ho sei medici, tiro. Andiamo su una c... Ma guarda, chi ha parcheggiato la macchina? Tu vuoi? Io, tipo, stavo dando uno scudo, ma li ha macerato, sono poco alla salina. Ma guarda, non c'è un po' di pallare, non c'è un po' di pallare. Ci siamo sfondati i soldi per andare alla sciaccia. Non ci vuole essere stati dei soldi. Ah, no? Poi credo lo fanno solo che ho i soldi, la scia. Già vado tutta Italia. Io non si fai molto bene. Ah, c'è chi piace, chi non piace. Ha detto che a Roma fanno anche i primi piatti. Ecco, la cazzata di Samu quando ha detto una cazzata, la rimedio e ancora un'altra cazzata. Esatto. Ecco, te lo sapevi che lui andava sulla casa e dovevo andare io, però mette il puntino su quella dopo Io, che testa di cazzo Devo metterla su questa qua, solo che ho sbagliato Grego, che testa di cazzo Via, via Vai, Emma Motorsport Altami su Io a caso, vai, Emma, muore Gasolio quanto c'è ancora Perfetto, che tempismo La faremo? Eh, senza macchine, però Dai, ce l'ho io il pick-up, muovetevi Sai guidare? Sì È stato bello, ce l'ho io il pick-up, sai guidare Volare Ecco Caramadonne No, devo guidare io Guida, guida, guida Dai Guida qualcuno Dai Vabbè, ho capito Dai Mi fermi, mi hanno amorato Dai, dai Va bene, per me va bene Ma io Non ti fai mai una valutazione mentale I tuoi problemi Perché non mi prende i DPI I dispositivi 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 Basta Perché basta? Questa roba Il dispositivo Di sto cazzo Anche Tu, Leonardo Basta Grego, sì Daniele Leonardo Ghi, scusa Tua mamma No, quello è Marcello E così mi è capitato Sottomano Il numero Della mamma Ha fatto la foto Nella stessa identica posizione Dove io l'ho fatta Con la mia macchina Come? Nel senso luogo? Ora te la faccio Cioè, te la mando Identica Stessa identica punto Dove io l'ho fatta Con la macchina E l'ho fatta a piedi Vabbè Segno il testino Basta No, ma non è un segno Il testino Giusto per dire Che è che ero con la macchina? Io Mi sono portato mezza vita Nel senso Che tu ti metta con lei No, ne Consiglio con la madre o con la figlia Ehm Eh, ci sono giusto Pure voi Cosa la mamma Magari quando stiamo a piedi Se calci chieste più Quindi io stiamo a piedi Perché ti metto bene o non vuole una bocca Perché ti metto bene o non vuole una bocca? Eh, non lo sa Cioè Addio Cofano voglia Giù giù per parlare Adesso va via Cofano voglia Carlo Conti 100.000 volte meglio Ti amateus Cento mila dieci a me non piace carlo conti è un po' scurrile la migliore era frizzi carlo conti è un po' scurrile a me non mi piace carlo conti è un po' scurrile greu che lì c'è l'amorizzazione dell'assalto no, vabbè ti è tempo to, to, to ma cosa fa? sotto a posta se mi facevi prendere danno, Samu no, su Fortnite me sa... zitto stai zitto forte me sa che rame ne consumi abbastanza è moda me, no? fai parlare tuo fratello ma ho sbagliato, ho fatto conto siamo poveri, no, tessere meccaniche guarda c'è lato l'aereo ma io ce l'ho